già quando fai il puzzle c'è sempre un elemento che manca per riempire tutto e dare senso a tutto questo che fai. Gesù usa due altre metafore che ci sono che fanno sentire che c'è qualcosa che non ha senso finché non è completo. Quindi se costruisci una torre e non finisci questa torre rimani al fondamento o fai una battaglia e non è sufficiente, soldati, non ha senso la battaglia. Quindi cos'è questo mancante elemento? La croce. Ma cos'è la croce? Ultime parole dell'Evangelo spiegano a noi che croce è proprio quasi perdere come il controllo direi non ho controllo sopra la mia vita non cerco di averla in senso che sono pronto a accettare cosa la vita porta senza condizioni senza dare a Dio condizioni finché a questo punto vado e accetto tutto da questo punto non vado. Per cui Gesù dice dobbiamo perdere tutto che pensiamo e possediamo. Cosa possediamo? Ultimo elemento del nostro bastione senza di avere la controllo. Il controllo. Così penso io e tu? Alles Jordilo. Un altro 1